Ma spesso siamo di fronte ad una domanda. Quello che ho fatto è già peccato grave o ancora veniale? Devo correre al confessionale o posso ancora aspettare? Sono un grande amante del bere, bere bene, ovvero champagne, vini rossi e anche qualche super alcolico e poi sono ludopatico frenetico, mi ballo tutta la fresca, a gioco, a bere e qualche sbarbato ogni tanto che ovviamente la porti fuori al ristorante. Io sono un signore un po' all'antica, le offri la cena, le offri la serata. Diciamo che la mia vita è dedicata al bere, al gioco e a qualche fanciulla. Non è possibile mettere i limiti precisi per indicare che fino a questo punto è ancora peccato veniale, ma subito dopo si tratta di un peccato grave.